Alice Basso Una figlia letteraria, un po' scomoda, sarebbe una figlia così, insomma, la raccomandiamo, Vani Sarca. Vani Sarca, per dirla tutta, probabilmente non avrebbe nessuna voglia di conoscerci, di stare qua con noi, vorrebbe stare a casa sua, circondata dai suoi libri, perché è così che vive e così che si nutre, perlomeno all'inizio di questo ciclo di cinque libri. Ma noi, nonostante lei, faccio tutti gli sforzi per risultarci antipatica, la troviamo immediatamente la nostra anima gemella. Non per niente la seguiamo sull'arco di cinque libri. Insomma, Alice, come si crea questa magia, questa alchimia? Non lo so, no, giuro, è venuta fuori un po' per caso. Oddio, datemi cinque minuti per abituarmi anch'io al suono della mia voce, soprattutto vi confesso, ve lo dico subito, così rompiamo il ghiaccio. E' imbarazzantissimo pensare di avere un microfono che veramente amplifica tutto quello che dici, non puoi neanche col gelato lo allontani così, quindi vabbè. Ogni respiro. Allora, Vani Sarca. Vani Sarca è antipatica, c'è poco da fare, cioè è ufficiale e non fa neanche tanto per nasconderlo, però mi rendo conto che nel suo essere antipatica effettivamente è venuto fuori che sta simpatica a un sacco di persone e poi sta tanto simpatica a me, tant'è che quest'anno che, insomma, vede l'uscita dell'ultimo libro della serie, a me per prima è dispiaciuto salutarla perché dopo cinque anni, insomma. Perché è antipatica? Perché è una terribile misantropa che capisce le persone ma non le apprezza, o meglio, le apprezza proprio per quello, le apprezza in senso, come dire, lato, le valuta e proprio per questo decide, non le volte su dieci, che non le piacciono. E all'inizio del ciclo di libri è particolarmente convinta di questa posizione, è un po' il suo credo, è la sua filosofia di vita. Più le persone stanno lontane da lei, più nessuno, cioè, siamo sicuri che nessuno si faccia del male, e tende anche a mostrare questa sua presa di posizione attraverso scelte specifiche di vestiario e di, insomma, trucco. Ce la descrivi tu, Vani Sarka? Sì. Come si presenta? Oh sì, allora, in realtà, ecco, per essere, come dire, per gratificarvi con almeno un po' di fluidità dell'espressione, io se fossi furba prenderei il primo libro e leggerei il pezzo in cui si autopresenta, così mi aiuto ulteriormente a rompere il ghiaccio. No, perché so che impiegherei due ore a cercare la pagina, perché questo è il problema. Voi non avete idea di quanto sia difficile, questa è un'altra parentesi, così, per proprio cuore in mano e oltre l'ostacolo, parlare di un libro che è uscito dopo che tu hai finito di averlo per le mani da sei, otto mesi, perché la stesura dell'ultimo libro per me è stata ultimata, la prima bozza vera, è proprio nello scorso agosto. Io sto già scrivendo il libro dopo, lo sto finendo, quindi molto spesso ho davanti dei presentatori che sono più ferrati di me nelle parti. Quando poi si tratta di presentare tutto, anche, sì, molto spesso, anche i lettori, ma tu dici in quel punto, ah sì, ho detto questo, e quando poi si retrocede, perché con una serie poi è facilissimo dover retrocedere e presentare i libri dall'inizio, per non spoilerare niente giustamente, ti trovi veramente nel panico e il vuoto, non ti ricordi più cosa hai scritto. No, beh, a quel punto no, è che non sai raccapezzarti, dov'è che ho scritto quella cosa? C'è quel pezzo che sarebbe perfetto in questo momento e non sai più dov'è. Quindi, ecco, sappiatelo, noi siamo dei poveri nomadi nei libri che scriviamo, voi probabilmente li sapete, li conoscete meglio di quanto noi scrittori stessi dopo un po' possiamo fare. Comunque, Vani Sarka si presenta come una versione nostrana di Lisbeth Salander. Prima che Lisbeth Salander venisse inventata dalla penna di Stiglars, dobbiamo dirla questa. Esatto, lei, nella finzione letteraria, lei fa la ghostwriter, no? Questo è stato accennato. Ghostwriter è quella creatura poverina che sta sul fondo della catena alimentare editoriale, il plankton della catena alimentare editoriale, che scrive libri che poi vengono firmati da altri. Questo, come potete immaginare, getta il ghostwriter in una profonda crisi d'identità, perché deve abituarsi a parlare con la voce altrui. E una come Vani, che salta da un libro all'altro, addirittura da un genere all'altro, che è una cosa che i ghostwriter veri non fanno di solito, ma io gliel'ho fatta fare perché era divertente, si abituano a parlare con più voci, addirittura. Cioè non soltanto ne ricalcano una, come può essere il ghostwriter dello scrittore tal dei tali, che se lo coltiva e se lo alleva a sua immagine e somiglianza, ma da libro a libro cambia totalmente ambito di espressione. Allora, a me serviva una protagonista che però potesse, da una parte, illustrare questo mestiere così particolare, ma dall'altra non essere priva di personalità, a furia di assumerne di diverse. E quindi le ho piazzato questa personalità fin troppo forte sul filo dell'insopportabile, sarcastica, misantropa, autosufficiente, proprio fino all'orgoglio poderoso di esserlo. E ho voluto darle anche un aspetto che corrispondesse, come ho detto. Peccato che man mano che mi veniva fuori la descrizione di Vani Sarka, mi accorgevo che una così c'era già nel panorama letterario, ed era Lisbeth Salander. Allora a un certo punto ho levato le mani dal tastiere e ho detto sì, beh, ciao. E' efficiente questa. Figuriamoci, già ho pochissime illusioni sul fatto che qualcuno mai voglia pubblicare questo libro. Se poi uso una protagonista che è la fotocopia di una già ampiamente nota e amata è tutto. Cioè, mi tiro la zappa sui piedi, sui malleoli da sola. E poi ho pensato, ma chi se ne frega? Intanto perché mi sto divertendo a crearla così? E poi perché può diventare lo spunto per un'ulteriore caratterizzazione. Cioè questa povera disgraziata, a un certo punto della sua vita, che è descritto anche in uno dei flashback dei libri, decide di assumere questo look così cupo, così aggressivo, per comunicare al mondo la sua meravigliosa interiorità. E dopo due o tre anni viene pubblicato Millennium. E tutti quanti dicono di lei, ah sì, quella che si veste come Lisbeth Zalander. E quindi di nuovo diventa il piano B di qualcun altro, la fotocopia di qualcun altro. Capite che a un certo punto una che già ha problemi di identità nella vita lavorativa, se li vede trasferire dal fato anche in quella privata e non ne può più. E infatti noi la troviamo abbastanza sull'orlo di una crisi di nervi, anche se lei non lo sa. Ho già parlato troppo, vero? Ma assolutamente, ma no, ma dobbiamo, c'è chi, esatto, ecco, bravissimi. Non sono per niente imbarazzata comunque, no, no, abituatissima, avere cinema davanti. Ti ho dato la possibilità di raccontare a tua figlia, ci mancherebbe che non me la raccontassi così. E tutti i genitori non fanno quello. E' chiaro la fotografia e tutto, la fotografia, ormai l'avete vista. Se volete vi dico l'età in mesi, come fanno i veri genitori, le cinture in mesi, forme di formaggio. Allora, questi, Bani Sarca, abbiamo detto, professione ghostwriter, quindi adesso avete tutti capito, avete già sentito parlare magari, avete già sentito questo termine, scrive insomma per qualcun altro i soldi, la fama se la prende quel qualcun altro, però ci vuole una grande capacità. E soprattutto è una figura che viene proprio dal mondo dell'editoria. Guardate caso, anche Alice Basso viene da quel mondo, infatti era quello che volevo raccontarvi, tenervi un attimino sulle spine. Da tantissimi anni è iniziato giovanissima, chiaramente. 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 Editor, traduttrice, redattrice, non sveleremo per quale caso editrice, non lo so neanche io, potete trottuarmi, non ve lo dirò. E quindi immagino che a questo punto il desiderio fosse proprio quello di raccontare questo mondo che noi, insomma, amanti dei libri, immaginiamo meraviglioso, pieno di glamour, pieno di questi uffici sontuosi, e che invece, vabbè, in qualche modo scopriamo che comunque non è sempre così già dai suoi libri, perché questa ghostwriter lavora per una casa editrice, insomma, Vani Sarca, l'edizione Ilerica, poi la poi vi racconteremo. Ma tu invece, Alice Basso, che cosa hai svelato veramente del mondo delle case editrici, cosa hai nascosto, cosa hai ingigantito? Il mondo delle case editrici fa ridere. Cioè, lì per lì ti frustra come qualsiasi ambiente lavorativo, quando succedono, insomma, le piccoli battibecchi inconvenienti che avvengono in ogni ambiente lavorativo. Poi però, quando ti astrai, cioè circa un'ora dopo la fine della giornata lavorativa, e guardi le cose da lontano, ti accorgi che è veramente un mondo buffo, perché ci sono delle dinamiche che superano qualunque immaginazione. Io me ne sono accorta, racconto sempre, perché io lavoro come più o meno freelance nell'editoria, come editora e redattrice, non sono una ghostwriter, anzi, anche se c'è una mia ormai carissima amica di Firenze, la prima libraia con cui abbia mai fatto una presentazione, che per tutta la prima presentazione mi ha detto, ma tu fai la ghostwriter? No, non faccio la ghostwriter. Sì, dai. No, non fai. Come se non potessi dirlo per maggiori contrattuali, e quindi lei stesse un po' il gioco. No, ma è vero, io non faccio la ghostwriter. Ci vado vicina, perché faccio la editor molto spesso, anzi, praticamente solo per saggistica divulgativa, che vuol dire che ho a che fare con un sacco di autori che non sono veri e propri autori di libri, sono esperti nei loro rispettivi settori di competenza e di appartenenza. Medici, per esempio, lavoro tantissimo con i medici. Terribile lavorare con i medici. Perché non sono abituati a scrivere per il pubblico, hanno il loro gergo, che hanno introiettato molto profondamente, e dal quale faticano tantissimo a staccarsi, anche se c'è da parlare a un pubblico generico. In quei casi, un pelino di ghostwriting ti esce, ti scappa dalle mani per venire incontro alle divergenze, come dire, espressive. Poi alla fine sono contenti tutti. Un ghostwriter comunque deve avere l'approvazione di chi alla fine appone il suo nome sul libro. Però io non sono una vera ghostwriter. Però il ghostwriter è una figura un po' emblematica di tutte quelle che stanno nell'ombra, dietro alla lavorazione di un libro. Il libro è un lavoro di squadra. È una frase che dico sempre anche perché mi fa sembrare molto intelligente, e quindi dopo averlo scoperto la prima volta la riciclo. Però ci credo veramente. Il libro è davvero un lavoro di persone che mettono ognuna un tassello della propria competenza senza il quale il lavoro non esce. Non c'è niente da fare, esce incompleto, esce. Ci vuole la competenza di un sacco di professionalità diverse per fare un libro. Dall'editor, che è il redattore, che lavorano sul contenuto e lo rendono presentabile, fino a quelli che si occupano molto banalmente, non perché sia banale ma perché intuitivo, delle copertine, della scelta. Il titolo, per esempio, non tutti sanno, forse non tutti sanno che è come nella settimana linguistica, i titoli dei libri per contratto sono a pannaggio dell'editore, non dell'autore. Se va bene, l'autore trova un bel titolo che piace anche all'editore, ma se no, l'ultima parola spetta, ed è giusto, all'editore. Perché l'editore è quello che ha in mano la conoscenza del mercato, del suo pubblico, sa che cosa va, sa che cosa attrae le persone, sa che cosa è meglio per aprire la pista a questo libro nel mercato. Ed è giusto che sia così. A me, per esempio, da editore è capitato molto spesso di assistere a volte a partecipare a dei dibattiti molto anche comici fra autori stranieri che pretendevano di impiciarsi nella traduzione del loro titolo in Italia, senza rendersi conto che chiedevano di importare in Italia delle espressioni che o in Italia non si capivano, nel migliore dei casi, oppure erano offensive, era addirittura, quanto producendo. E allora il Ghostwriter per me è stata un po', cioè questa figura anche un po' mitizzata, anche un po' fantascientifica di Ghostwriter, perché appunto, come vi spiegavo, nessun editore sano di mente farebbe mai scrivere alla stessa persona dei saggi di neuroscienze e dei romanzi... Sugli angeli. Esatto. Esatto, della letteratura esoterica. Però il Ghostwriter in sé era una figura che mi tornava molto molto comoda per onorare tutta quella fetta di lavoratori che stanno dietro al libro che poi noi ci troviamo in mano. Che non è vero, che esce così perfetto dalla testa dell'autore toccato dalla bacchetta, dal ramo d'alloro del dio Apollo e poi finisce in mano al lettore direttamente, passando al massimo per qualcuno che lo impagina, se proprio dobbiamo. No, dietro c'è un lavoro immenso di un sacco di gente. E di un sacco di gente particolare dotata, adesso torniamo chiaramente a Vanisarca, di doti veramente incredibili. Perché è un giallo questo? Perché lo possiamo definire giallo? Perché Vanisarca, per diventare Ghostwriter, comunque ha bisogno di capire l'altro, di capire chi ha davanti. questo medico che racconta di neuroscienze, questa appunto, questa signora che parla con gli angeli e che quindi ha tutta una serie di lettori che vogliono determinate storie. Oh, a un certo punto si trova a dover scrivere quei thriller all'americana, chicciosissimi, pieni di donne bellissime, che saltano sulla moto. Esatto, atletiche. Ma anche coltissime. Totalmente, esatto. Quindi lei deve capire, allora, chi ha davanti, come parlerebbe, e soprattutto anche migliorare, chiaramente, quello che ha davanti. Perché se scrivesse come loro, tanto vale avere un Ghostwriter. Queste sue doti le permettono di entrare in mezzo, nel primo libro succede per caso, poi un po' invece su richiesta, nel mezzo di misteri da scoprire. Perché lei riesce a capire, cioè diventa una sorta di profiler. Esatto, bene. Possiamo proprio dire, è proprio quello. Perché questa empatia le permette di capire. Adesso questo fa quel movimento, oppure questo suo comportamento, visto delle medicine sul tavolo, questo indica che quelle classiche cose che vediamo nei film, insomma. Della persona che in un attimo, vum, mette a fuoco la situazione e questo le permette di affiancare un meraviglioso personaggio che sappiamo che chiso, ma chi legge Alice Basso ama, che è il commissario Berganza. Quindi lei diventa una collaboratrice della polizia. Vogliamo, insomma, esplorare questo. Ma esploriamo, ma certo. Intanto sappi che stavo ridendo, perché come sempre succede, dici Ghostwriter, devi spiegare, dici Profiler, tutti sanno perfettamente di cosa si tratta, perché vent'anni di telefilm americani ci hanno addestrati tutto, perfettamente a conoscere il termine. Sì, allora, nel primo libro, Vani Sarca è, per circa 30 secondi, non vi spoilerò niente, io sono una che rispetta l'esigenza del non spoiler, io sono una che viene, guardatemi, sono una vittima di spoiler costanti da parte di mio padre, che non conosce ritegno nei confronti, non sente proprio il pericolo dello spoiler, e con candore indescrivibile, a me ha detto il finale di Harry Potter. Spero che nessuno di voi sia passato attraverso questa terribile esperienza, che distrugge proprio i sogni di un ragazzo, quindi starò molto attento, questo per dire che starò molto attenta. Ragazzi, che parentesi lunghe che faccio, siete degli eroi. Ti piacciono. Dicevo, Berganza, il commissario Berganza arriva nella vita di Vani Sarca, perché lei per 30 secondi, nel corso del caso, che viene illustrato dal primo libro, che peraltro è questo libro, Il titolo scelto dall'editore. Lo devo leggere. L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, un titolo evidentemente scelto col principio, almeno una parola su otto, quando uno va in libreria, se la ricorderà per identificare lì. Non è un brutto principio, poi io voglio dire, ha senso. Berganza viene incaricato di indagare su una sparizione, e siccome la sparizione riguarda una persona con la quale Vani Sarca sta lavorando, anche lei rientra nel novero delle persone da interrogare, e potenzialmente anche un pochino da sospettare. Siccome Berganza, a differenza di un sacco di sbirri della fiction italiana televisiva o letteraria, è intelligente, capisce praticamente subito che intanto a lei non potrebbe fregare di meno di mettersi in un casino grosso come una sparizione di persona, per cui è anche inutile pensare. C'è mezzo delle persone, perché... Esatto, ci sono di mezzo delle persone, quindi non le possono interessare più di tanto. In più, si rende subito conto che questo allenamento all'empatia che lei ha sviluppato per ragioni ovviamente professionali, rispecchia molto l'allenamento all'osservazione, all'analisi di persone e contesti, che caratterizza anche l'addestramento di un buon poliziotto. Quindi si trovano due personaggi estremamente empatici, entrambi per ragioni professionali, sebbene mutuate e da professioni diverse che si riconoscono. Oltretutto, sti due hanno anche un altro filo di comunicazione che... Esatto. Dile tutto, no. Non sono empatica come Vanisar. No, ma ti ho letto negli occhi che stanno dicendo la stessa cosa. Beh, chiaramente la passione per i gialli e poi l'essere tutti e due degli alias di personaggi letterari, perché il commissario Berganza sembra uscito da un libro di Raymond Chandler oppure, non so, Dash Lammet, insomma, da un noir esattamente, praticamente Philip Marlowe fatto uomo, trench, sigaretta, poche parole ma messe giuste e poi appunto, come diceva, intelligente soprattutto, no? Una persona che ha letto e già questo per Vanis milioni di punti e capisce, insomma, come si vive, anche come gestire un'indagine attraverso la parola, attraverso il pensiero. Esatto. Proprio così. Sì, non aggiungo, cioè, è tutto per... Scusate, non è... No, è bellissimo, altra parentesi, meta letteraria. È bellissimo avere i presentatori che hanno letto e sanno le cose, senza criticare quelli che poverini magari non arrivano a leggere tutto, però è proprio bello. in questo caso è stato è stato un piacere. Ma allora, però, noi appunto abbiamo iniziato a parlare di questo, del genere, quindi del giallo, però c'è qualcosa che mi incuriosisce nei libri di Alice, perché in realtà noi di veri morti ammazzati non ne incontriamo, perché, insomma, vengono citate anche le regole del giallo degli anni 30, se non c'è il morto il libro non funziona. È stato ricordato anche in questi giorni con l'anniversario dei gialli mondadori, insomma, ci vuole il cadavere, l'indagine è una soluzione, se no il giallo comunque non sta in piedi. Qui non muore nessuno se non nel passato, diciamo, sono morti seppeliti da un sacco di tempo, non si scomoda nessun cadavere, però il giallo comunque c'è perché ci sono delle sparizioni, ci sono comunque, ma addirittura in un caso bisogna scovare un ghostwriter, bisogna capire come un malvivente comunichi nonostante sia rinchiuso in casa, insomma, c'è di tutto, minacce, vedrete, comunque le avventure sono, cioè, il giallo c'è totalmente, quindi si può scrivere un giallo disobbedendo totalmente alle regole, insomma, alle regole di base. È come Topolino, in Topolino avete mai visto un morto? In Topolino sono tutti reati contro il patrimonio, contro le persone, o sparizioni di persone. No, allora, è un gioco meta-letterario, cioè, il gioco meta-letterario è un'altra di quelle espressioni che ti fanno sembrare intelligentissime, che quindi spendi, specialmente davanti a 300 persone. Questi sono, adesso, a parte di scherzi, questi sono libri veramente molto meta-letterari. Io li ho scritti perché era come se mi facessi l'occhiolino da sola mettendo in un'unica storia citazioni di tutti i libri che avevo amato, che stavo leggendo e mi stavano piacendo, che stavo riscoprendo. ci sono un sacco di scene più o meno esplicitamente omaggianti, scene di libri che erano piaciute a me. I personaggi stessi sono molto citativi, come dicevi, e quindi è tutto veramente intriso di meta-letteratura. una delle cose più belle in assoluto, più poetiche direi anche, che hanno accompagnato la pubblicazione di questi libri e che io non mi sarei mai aspettato, a parte che mi aspettavo la pubblicazione Tu Cour, se vuoi ne parliamo, ma non mi aspettavo tutti questi effetti collaterali, è stato che dal 2015, quando è 14, no, è 15, quando è uscito il primo, no, mi sembra una vita, forse per me sono usciti negli anni 70, no, no, infatti, sono pochissimi anni, tre anni tutti e cinque per fare una sinte. Dal 15 al 19, quattro, cioè uno per anno, tutti. Oh, mi sembrano venti anni. Da allora succede che un sacco di lettori mi scrivano non tanto per dirmi, sì anche, per dirmi mi è piaciuto e tutto e quello, ragazzi, vi assicuro, è una delle più grandi soddisfazioni che chiunque compie attività creative possa portarsi a casa e fa riflettere invece sul lavoro dei ghostwriter che questo tipo di soddisfazione devono totalmente dimenticarselo, devono abdicare a questo tipo di gratificazione per l'opera creativa che fanno, fine parentesi. Ma soprattutto mi scrivono per dirmi ho visto che citi che hai letto quella serie lì che ho letto anch'io ma io pensavo che non la conoscesse nessuno perché io vivo in un paese di duemila anime nella mia biblioteca quel libro lì che ho preso in prestito l'ho preso in prestito solo io, non c'è mai stato nessuno. Allora ci mettiamo a chiacchierare di questo e io perdo ore nella mia vita ma perdo è la parola sbagliata perché in realtà sono tra le esperienze più belle che si possano fare perché tra l'altro voi se siete qui siete amanti dei libri mi confermerete che non c'è soddisfazione più grande sì, qualcuna c'è però sono poche che parlare di libri dei libri che ti sono piaciuti con qualcuno che è in grado di recepire. È una cosa meravigliosa e anche sentirseli consigliare bene, peraltro. Dove volevo arrivare? Allora, volevamo eravamo partiti da un giallo senza cadaveri. Sì, i gialli senza gialli giusto, sì quindi questo allora, giusto bravo, grazie vedi, un'altra cosa per cui i presentatori quando sono bravi sono molto bravi a riportare sul pezzo gli scrittori logoroici. Volutamente non ho messo non ho messo non ho fatto attenzione alle regole canoniche del giallo ma le ho fatte elencare dall'esperto di gialli che è Berganza che a un certo punto quando Vani nel quarto libro peraltro si trova a dover scrivere proprio un giallo un thriller d'ordinanza elenca con lei un po' per gioco un po' così per sarcasmo nei confronti del prodotto che invece le viene richiesto di fare le regole del giallo d'antanna del giallo enigmistico di tradizione voi dovete sapere che io non scrivo gialli io non li considero veri gialli questi penso che il giallo sia pretestuoso e sia importante per un terzo della trama ma che sia più che altro la taccapanne a cui appendere le storie personali dei protagonisti e soprattutto tanta ironia sul mondo dell'editoria però ogni tanto mi chiedono di fare delle lezioni sulla storia del giallo io all'inizio dicevo ma chiamate i giallisti veri no no ma tu comunque è vero che non li scrivi ma sei una che studia e questo ho un curriculum che lo conferma quindi fino lì e allora un po' per sfida all'inizio ho iniziato a studiare la storia della letteratura gialla perché nessuno la insegna perché a scuola è considerata un genere minore ma è anche giusto che a scuola non si può studiare proprio tutto però è carino per esempio andare nelle scuole a raccontare a latere cosa succedeva nel filone del giallo come si sviluppava in parallelo alla letteratura con la L maiuscola anche se la distinzione è tutta arbitraria e alla storia con la S maiuscola e si scoprono un sacco di cose meravigliose specialmente sulle biografie degli autori che valgono quanto i loro romanzi i grandi autori dei gialli hanno quasi tutti delle biografie divertentissime non interessanti proprio divertenti a parte qualcuna che è tragica e struggente ma è bella allo stesso modo e tutto questo finisce per costituire un bacino di ispirazione appassionante veramente appassionante quindi i miei libri è vero che non sono gialli però io conosco tanti giallisti ferrati che amano i giallisti veri quelli che hanno un concetto del meccanismo una orologeria perfettamente calibrato l'uso delle cosiddette pistole di Chekhov che poi se volete no, non parliamo tra parole le sfoderiamo esatto che però hanno trovato comunque gradevoli questi romanzi perché hanno trovato si sono rispecchiati nell'amore che anche io provo per questo genere e hanno trovato questo divertimento nello scambio di citazioni sui gialli veri sui gialli degni dico tanto nome che comunque adesso tu fai la modessa e dici non sono degni però in realtà l'intrigo c'è nel senso c'è un'inchiesta c'è un caso da risolvere e ci sono anche tutti quegli strumenti che infatti dicevamo conosce il profiler che chiaramente è Vanisarca quindi parliamo sempre di Vanisarca e c'è una soluzione quindi la suspense c'è tutta nel mezzo ci sono comunque tanti piani narrativi in cui saltano fuori anche tantissimi personaggi curiosi che nella mia mente in qualche maniera insomma sono personaggi che piano piano arricchiscono la vita di Vanisarca che gradualmente non è uno spoiler però un pochino diciamo dal suo appartamento esce si apre non dico che diventa proprio sdolcinata però qualche tipo di sentimento alla Vanisarca esce anche a malin cuore a malin cuore però Vanisarca c'è un cuore d'or basta non c'è non c'è niente da dire quello non è che non ci vuole tanto per scoprirlo anche questo non è nessuno spoiler sono tanti personaggi che a me ricordavano un pochino la tribù Malossain per pensare a Pennac vero sono una famiglia inventata quando la nostra non ci piace magari per strada conosciamo delle persone che sono molto più affini a noi per esempio c'è la vicina di casa Morgana che è una Vanisarca vent'anni più giovane e sicuramente non è ancora sarcastica non so se lo diventerà mai magari grazie appunto all'incontro con Vani non lo diventerà mai una Vanisarca più anziana di parecchio fantastica un personaggio veramente questo ve lo raccomando lo scoprirete leggendo Alice Basso se non l'avete ancora letta e quindi a questo filone giallo si mescolano anche altri filoni infatti io leggevo che i libri hanno grandi problemi a sistemare almeno all'inizio a sistemare i tuoi libri in una libreria perché c'è il giallo c'è il rosa di tutti questi sentimenti e poi avete capito Alice Basso fa morire da ridere insomma si ride tantissimo in questi libri c'è una forte componente comunque di commedia quindi si può fare si può mescolare tutto quanto shakerare e poi tu come ti presenteresti? questa è precisamente la ragione per cui ero assolutamente convinta che anche provando a mandare il primo libro in giro non l'avrebbero mai pubblicato perché l'editoria tendenzialmente ama la settorializzazione e mescolare troppi elementi confonde infatti quando scrivevo il primo libro io ci mettevo dentro volutamente perché è vero è che il primo libro lo scrivi proprio solo per te cioè nel senso che allora quelli che dicono io scrivo solo per me di solito mentono perché altrimenti non dovrebbero neanche dirtelo se lo vieni a sapere vuol dire che è un po' di desiderio di uscire dal tuo cassetto ce l'hai però è vero che ti metti rapidamente il cuore in palco farti già disilluso io lavoro nell'editoria cioè ci lavoravo anche mentre scrivevo il primo libro lavoravo nella saggistica non nella narrativa però insomma un attimo i meccanismi ce li avevo presenti eppure nonostante questo vedevo il mondo della narrativa totalmente irraggiungibile pensavo che fosse un sogno per pochi una cosa ho mandato il primo libro così per caso tra l'altro gli agenti che lavorano nella narrativa sono tutti diversi dagli agenti che lavorano nella saggistica quindi non è che uno perché lavora in una branca dell'editoria sia per forza già introdotto nelle dinamiche non dico nei contatti che è quello proprio ma anche nelle dinamiche comunicative e relazionali della narrativa quindi l'ho mandato senza agganci dalla mia parte avevo la possibilità di replicare più o meno quello che vedevo funzionare nel meccanismo proposta e accettazione della saggistica ho pensato dai più o meno saranno le stesse cose una lettera di presentazione si scriverà più o meno efficace si scriverà più o meno con gli stessi artifici i materiali da sottoporre più o meno andranno confezionati nello stesso modo se io fossi il valutatore probabilmente guarderei con favore a questo tipo questi sono tutti stratagemmi che si possono insegnare non è niente di trascendentale anzi quando un sacco di ragazzi mi vengono a chiedere io come faccio a portare il mio manoscritto in giro volentieri racconto quelli che secondo me sono i mezzi giusti però c'era di fondo questo minestrone di stili che mi faceva pensare che in ogni caso sarebbe stato fallimentare proporlo in giro ma è stato dosato tutto bene nel senso che chi lo dice chi lo sa sapete che ho scoperto che in Germania per esempio dove va fortissimo Camilleri in Germania sono particolarmente rigidi sulle classificazioni dei libri cioè se c'è un tipo di romanzo di filone che mischia più generi lo trovano difficile da divulgare da pubblicizzare da comunicare e lo capisco ancora più che in Italia una volta per curiosità ho chiesto alla mia agente ma come mai allora Camilleri invece ha questo noto questo celebre successo in Germania è così notoriamente affermato in Germania e lei mi fa perché lo vedono come commedia all'italiana cioè non lo vedono come giallo lo vedono come commedia e questo ridurlo perché è un po' anche un ridurlo a commedia che non è del tutto incomprensibile è plausibile dovendo scegliere una qualità forte forse anch'io direi che è più forte la componente di colore sociale di analisi sociale divertita più che quella gialla pure semplice però loro lo riducono lo etichettano in questo modo perché è più facile e in Italia secondo me non funziona in maniera così estrema non fosse altro perché questi poi alla fine sono stati pubblicati per cui vuol dire che spazio per i crossover c'era però la settorializzazione funziona una delle cose che ho imparato lavorando nell'editoria e che uso quotidianamente nel mio lavoro quando si tratta per esempio di scrivere le alette di copertina dei libri o scrivere quella cosa terribile che nessuno sa che sta alla base della divulgazione di un libro che sono le schede promozionali ai promotori che poi vanno in libreria a mostrare la schedina che riassume tutto il libro al libraio che deve decidere mentre lì che fa le spunte dei bancali se prenderne delle copie o meno ecco in quelle schede tu devi condensare tutta l'essenza del libro i punti forti devi essere mirato purtroppo tante volte l'originalità non paga paga di più l'inserirlo in un filone già consolidato dire a qualcuno ecco questo è un po' un misto di non vabbè già stai perdendo troppo tempo gli dici è il nuovo Zafon funziona quindi il problema della mischione è un problema reale e va amministrato bene io sono gratissima ai miei editori perché in questa commistione di cose che erano piaciute a me di generi di citazioni di veramente ingredienti di ogni genere tipo pere e mele hanno visto il potenziale e quindi si sono presi la briga non semplice di trovare delle formule per comunicarlo forse anche un aggettivo messo per esempio la descrizione del fatto che sia un giallo ma dentro ci metti l'aggettivo esilarante allora già ti fa venire il dubbio che è quello che trovate sulle fascette ti fa venire il dubbio che sia un giallo ma raccontato in una maniera e queste cose qui hanno funzionato ma è stato non era scontato non era assolutamente scontato devo essere molto grata a molte persone per questo che ti hanno capito allora io immagino che vabbè tantissimi di voi abbiano già letto Alice Basso però tanti sono curiosi da questo punto abbiamo iniziato a conoscerla io ho proposto Alice insomma come vogliamo gestire le letture vuoi leggere qualcosa per darci un'idea insomma vi va vi va di sentire è carino ci vuole ci sta allora io vi leggo un pezzo questa è la prima volta che leggo un pezzo dal libro nuovo che emozione infatti non sono sicura di riuscire a leggerlo senza impappinarmi quindi sappiatelo ovviamente ho preso anche la pagina infatti intanto che Alice cerca è proprio appena uscito metti il segnal libro non ti due secondi fa due secondi prima dell'inizio metti il segnalino no no mi ricordo la pagina non ti preoccupare prendi tempo ecco si è appena uscito quindi è il quinto libro tutti e parlavamo degli editori garzanti comunque nel senso non è che Alice è cascata così e e sono appunto sono tra l'altro usciti tutti uno vicino all'altro e per darvi anche un altro elemento interessante che vi porterà proprio dentro questo mondo ma che ne uscite solo all'ultima pagina e che tutto quanto si svolge veramente sull'arco di pochissimi mesi quindi si finisce uno inizia praticamente quasi il giorno dopo due settimane dopo o poco dopo quindi lei praticamente va a casa apre il frigo triste dove ci sono le patatine questa vanisarca e non Alice basta questo è uno dei pochi ma terribili elementi in comune patatine al formaggio birra scura che non si tiene in frigo e questo è questa è la sua vita e nel frattempo insomma succede tutto questo pensate un po' cioè se questa non è la vita interessante se la vita di una ghostwriter non è interessante ditevi voi si uno pensa che stia solo davanti al suo computer e invece guardate qua insomma cinque libri un paio di mesi tu hai trovato allora siamo al supermercato ci sono vanisarca e la sua vicina di casa morgana che stanno facendo la spesa insieme attività quanto mai mondana per vani che se potesse si nutrirebbe di muschi licheni che peraltro sono l'unica cosa che cresce spontaneamente nel suo figlio morgana è vani in miniatura come la sua matriosca piccola nel senso che ha 15 anni ma si veste si abbiglia si acconcia si pettina esattamente come vani perché da quando l'ha incontrata la prima volta in ascensore a sette anni il giorno che vani si è trasferita in quella palazzina ha avuto un colpo di fulmine e l'ha eletta a suo modello di vita vani è preoccupata perché lei sa di non essere un grandioso modello di vita e spera sempre di contenere questo afflato di ammirazione da parte di morgana dandole delle dritte su come non vivere cioè essenzialmente cerca di calmarla però morgana è troppo innamorata di vani per darle retta ed è carino vederle in giro insieme perché sembrano appunto due mareschi ho capito cosa stai per leggere solo che come vi ho detto tutte e due si vestono di nero borchie eccetera per cui insieme fanno anche un certo effetto allora l'angolo della morgana sta parlando scusate finisco con la premessa morgana sta parlando con vani deposita dei pacchetti di zucchero sul nastro trasportatore e fa un casino in pratica l'angolo della confezione intercetta la barra divisoria fra la nostra spesa e quella della signora dopo di noi si scolla si apre e rilascia una nevicata di zucchero sul nastro e sulla spesa della signora medesima morgana grida oddio e si affretta ad arginare la zucchero ragia ma lo fa continuando a tenere in mano il pacchetto semi aperto con il solo risultato di peggiorare la situazione e dolcificare anche parte del pavimento di linoleum morale la signora in coda dietro di noi si mette a protestare e ad avvicinarsi la sua spesa e la sua barretta divisoria come se volesse proteggerle nella foga dà anche distinto uno schiaffetto alle mani di morgana che nel tentativo di rastrellare lo zucchero hanno invaso il suo territorio spesa e sfiorato un paio di evidentemente preziosissime intoccabili off limits confezioni di spaghettini numero 3 oh dio mi scusi mi scusi geme morgana la signora fa una smorfia è una tizia sui 55 e 60 né magra né grassa con il naso grande e la bocca piccola e i capelli di quello che sotto i 30 anni è rosso Jessica Rabbit e sopra rosso meno pausa senza vie di mezzo fissa morgana e poi me con la faccia di un pitbull davanti al postino per una frazione di secondo non capisco come mai la sua espressione tardi ad ammorbidirsi in fondo non è successo un tubo di niente e morgana si è scusata poi capisco la tizia ha notato il nostro abbigliamento cioè mio e di morgana insieme visto che prese da sole possiamo ancora ancora causare una dose di shock limitata ma una accanto all'altra facciamo una sorta di effetto cheerleader ovvero l'illusione psicologica per cui più ragazze bionde in minigonna una vicina all'altra sembrano a colpo d'occhio più belle che prese singolarmente come se i pregi dell'una riverberassero anche sulle altre moltiplicando le attrattive solo che nel nostro caso il risultato è che io e morgana insieme sembriamo ancora più nere più borchiate e più sociopatiche la signora si irrigidisce e finge ostentatamente di non guardarci più io sbircio morgana ci è rimasta male si è scusata e tutto e questo è il trattamento che ha ricevuto uno potrebbe obiettare che dovrebbe esserci abituata perché si veste come una teppista ammanicata con le forze del male da quando aveva 11 anni e di solito questo non ti attira esattamente gli stessi sguardi affettuosi che il concittadino medio riserva alle bambine agghindate da prima comunione però anche è vero che è relativamente normale che le ragazzine dell'età di morgana si vestano in modo eccentrico e soprattutto è vero che morgana è sempre stata la prima della classe grande lettrice personcina tranquilla e quindi il 90% del suo tempo a scuola o a casa lo trascorre in mezzo a gente che la tratta come se fosse effettivamente vestita da prima comunione quindi ecco c'è rimasta male spiazzata la capisco si chiede che cosa dovrebbe fare più di così per farsi perdonare dalla tignosa signora e non sa darsi risposta questa stronza si meriterebbe una lezione morgana si gira verso di me e incrocia il mio sguardo con i suoi occhioni da panda ah già perché morgana ha sempre la matita sbavata non si sa ancora mettere e allora succede una cosa attenzione parale quella cosa che di solito a me succede con il commissario cioè che ci capiamo al volo abbiamo delle censure sulle parolacce esatto il sindaco che dice no diciamo che è un passaggio un po' colorito ma vedrete vale la pena vale la pena tanto se ci sono dei minorenni vi garantisco le sanno più di voi ma proprio lezioni sei sempre la solita casinista del cazzo brontolo io non t'avessi avuta a sedici anni mi hai rovinato la vita ma dai mamma piagnucola morgana prontissima per una volta che non rubavo quando arriviamo a casa le prendi vedrai che cinghiate te le darei già qui ma poi c'è sempre qualche rompicoglioni che chiama gli assistenti sociali mica mi fai paura e il tuo stupido uomo sarà sicuramente troppo buriaco per darmele avanti così un po' la signora si è trasformata in una specie di orribile animale impagliato che nessuno vorrebbe in salotto rigida e immobile si sforza più che mai di non guardarci ma ha gli occhi vitrei e si stringe la borsa al petto sono certa che ritiene pericoloso anche solo respirare la nostra aria nel caso il batterio gentaccia bassifondis le penetrasse nei polmoni e la contaminasse dall'interno e la lasciasse preda dell'impulso incontrollabile di darci i numeri della sua carta di credito e poi escono dal supermercato e non continuo che tra l'altro infatti non siete scandalizzati esatto è fantastico questo passaggio che tra l'altro hai scoperto adesso che tu hai iniziato hai stai leggendo anche l'audiolibro vero? l'esperienza più divertente della mia vita ecco ce lo racconti insomma c'è la carta che è protagonista di tutti gli incipit dei libri ma a questo punto la carta può tranquillamente può diventare sì hanno fatto l'audiolibro deve ancora uscire l'audiolibro del primo e c'è già in canna anche quello del secondo e quando ho saputo che c'era l'audiolibro io ho cominciato sapete come i bambini no? ma deve essere buona quella fetta di torta se si potesse mangiare quella fetta di torta così no? ecco oh come sarebbe bello poterlo leggere finché non hanno capito e hanno deciso di darmi il contentino allora mi sono autoregistrata all'audiolibro del primo devo dirvi è stata una delle esperienze più divertenti della mia vita anche perché dopo i primi due capitoli il tecnico che è molto più che un tecnico sapete che per un audiolibro per un'ora di registrazione ci vanno tre ore di editing poi esci che hai la voce di Adele però ci vogliono tre ore e questo povero uomo ha capito la mia difficoltà e a un certo punto mi ha detto le vocali non pensarci vai come ti viene io sono mezza milanese mezza veneta mezza 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 è impossibile comunque sono mezza veneta mezza emiliana nata a Milano trapiantata a Torino non c'è una vocale che io azzecchi c'è un maestro di edizione muore ogni volta che io pronuncio una parola che preveda un dubbio su una è aperta una è chiusa mi hanno dato via libera dicono tanto quando lo legge l'autore non è che ci si aspetti e da lì mi sono divertita come una matta ecco per cui niente abbiate pazienza se mi sono messa a ridere mentre leggevo mi ha fatto ridere anche noi ma allora ecco questo è interessante mi sono divertita voi avete riso quindi una letteratura di intrattenimento può esistere cioè non è una come dire le due cose possono andare insieme si può scrivere bene perché Alice scrive benissimo ve lo garantisco e intrattenere anche non c'è niente di male ma no spero proprio di no io personalmente sono proprio grata ho proprio dei moti di amore non è definibile in altro modo verso quegli scrittori che ti sanno far ridere e poi magari a un certo punto ti accorgi che dopo avere riso hai anche portato a casa qualcosa il mio scrittore preferito ha fatto sto lavoro e mi ha conquistata così quando avevo 15 anni si chiama William Goldman ma non starò a parlare di lui se no un'altra ora avete fame ma ci sono un sacco di scrittori per esempio io quando avevo 22-23 anni subito dopo la laurea mi medesimavo molto leggevo un sacco di libri dell'età della grande depressione perché questi pezzenti che avevano da trovare un lavoro in fretta altrimenti morivano di fame avevano tutta la mia empatia io mi sentivo totalmente una di loro quando vuoi lavorare nelle lettorie i primi 2-3 anni sono così se qualcuno di voi o i vostri figli nipoti parenti cugini ha questa idea avvertitelo che si mette al cuore in pace e mentre leggevo questi libri ho scoperto John Fante John Fante è uno di quelli che riesce a parlarti di gente che striscia per terra dal niente che ha dai due soldi che non riesce a portare a casa e però alla fine del libro sei commosso felice hai riso come un pazzo non hai avuto l'impressione di leggere qualcosa di triste hai capito tantissimo di come si viveva in quegli anni del tipo di paura del tipo di priorità però allo stesso tempo hai vissuto una parentesi oserei dire spensierata un altro così è oddio il nome quello di le ceneri di Angela non tanto per le ceneri di Angela che è terribile non fa ridere per niente anche se è scritto divinamente quanto per l'altro libro che ha scelto chi è che l'ha urlato il nome che gli è venuto in mente mentre io ho questo orrendo vuoto di memoria bravissimi vice sindaco non è il sindaco vice sindaco per niente mi sembra giusto comunque e lui ha scritto un altro libro che si chiama Eiprof in cui parla della sua vita da professore sempre in questi ambienti scalcagnatissimi di gente che ha più il problema di portare a casa la pagnotta che è un'istruzione ed è un libro commovente ma commovente perché ti fa lacrimare prima dal ridere poi dal piangere poi di nuovo dal ridere e così via e questi libri secondo me sono preziosissimi preziosissimi ti aprono le porte di un sacco di contenuti senza farti pesare l'ingresso senza farti pagare il biglietto di ingresso troppo non so come dire senza farti mettere i tacchi alti perché entri nel salone di gala e ecco insomma è una buona chiave per entrare o io non sto dicendo che io faccio parte di questo limpo sto dicendo solo che sono fra i miei libri preferiti e gli autori di questi libri sono fra i miei eroi proprio di vita ma infatti appunto noi ci accorgiamo che la letteratura americana è insomma una tua passione non per niente nella prima avventura di Vanisar che lei dice praticamente lei partecipa alla stesura di un secondo romanzo di un grande di uno scrittore fascinoso che ha venduto tantissimo col primo insomma scrivono un nuovo grande romanzo americano che tra l'altro lei definisce anche lei dice ho scritto il libro più bello del mondo e non lo sa nessuno che deve essere veramente fa male al cuore perché è un gran successo anche la trama vi garantisco potresti scriverlo io volevo scriverlo quel libro perché è geniale ma volevo anticamente vogliamo dire qualcosa perché questo ti fa capire anche appunto la conoscenza che ha Alice della materia nel senso ci fa ridere ma ragazzi allora questa trama qua scrivila questo non è uno spoiler perché succede veramente all'inizio del primo libro voi dovete sapere che quando avevo 22 anni e leggevo sta roba io alla fine mi ero appassionata talmente tanto che ho fatto una cosa che non ho più fatto nella vita adesso sto ricominciando a farla cioè prendere appunti mentre leggevo leggevo per di porto alla fine mi sono trovata con una pila che non dico che raccogliesse tutta la letteratura dell'America della grande depressione ma tutti i titoli più prominenti sicuramente e mi era venuta voglia di scrivere questo romanzo che fosse una specie di Forrest Gump della letteratura in cui una famiglia in questo caso cioè in quel caso lì inventata i miei personaggi incontrassero i protagonisti delle storie di questi romanzi e avevo costruito una trama dettagliata e tutto mi ero anche messa a scriverlo poi mi sono accorta che sarebbe servita una documentazione dettagliatissima sulla vita dell'epoca sulle minuzie cioè molto di più di quello che puoi apprendere semplicemente leggendo avrei probabilmente dovuto andare sul posto e tutto che sono cose che a 22 anni quando stai cercando uno straccio di lavoro per campare trovarti la tua indipendenza non puoi fare a meno che tu non sia straico di famiglia e io non lo sono quindi cosa ho fatto? ho lasciato lì la trama male in cuore ho cercato un lavoro vero non l'ho trovato ne ho cercato un altro non l'ho trovato un po' alla volta ci sono arrivata a distanza di anni ho scritto il primo libro ho deciso che quella trama diventava la trama del libro che scrive Vani nel primo dei miei libri e questa trovata alla fine ha trovato un sacco trovata ha trovato meno male che sono la redattrice ah la scrittrice che sa usare le parole ha trovato talmente tanto consenso che un sacco di gente diceva scrivilo e tutto ormai ho bruciato la trama per cui non avrebbe senso però vi devo dire che la considero ancora con affetto ancora guardo a quella trama lì come a qualcosa di cui sono se posso dire sono fiera perché mi mi scalda pensare di aver avuto quel tipo di idea lì no è vero vi garantisco e questo ci fa anche capire il lavoro che sta dietro anche questo ciclo di libri quindi scritti in pochissimi anni devi averli costruiti con cura per riuscire a star dietro diciamo a tutto anche tutto dicevi tutte le dinamiche le logiche dell'editoria perché c'è un capo e c'è una coda in tutti i libri non è che a un certo punto non si dice a questo interlocutore non succede nulla per arrivare a quello successivo come le hai costruiti? allora l'idea è che ogni libro sia autosufficiente nel senso c'è un caso quando vi dicevo che il giallo è l'attaccapanni a cui si appendono le altre storie l'attaccapanni finisce nel senso che ogni libro ha un caso che si apre che si chiude non so se avete mai provato l'emozione di gialli che restano aperti ah ma sì nella terra di Dür a chi vado a chiedere certo scusate comunque io non scrivo quel tipo di gialli che ci vuole un po' di più di arte per fare i miei sono banali gialli che si aprono e si chiudono però ogni giallo ogni libro oltre a contenere il giallo contiene il riassunto delle puntate precedenti possibilmente senza spoiler almeno credo di non averne fatti per cui si arriva al secondo al terzo eccetera cioè se si prende in mano il primo il secondo il secondo il terzo eccetera si riesce a capire a che punto della storia si è senza avere perso il piacere eventualmente poi di recuperare il volume precedente si sa giusto quello che occorre sapere però letti tutti in fila in teoria dovrebbero avere il sapore del romanzo unico del romanzone quella è l'ottica nella quale io ho steso le cinque trame sin da subito io ho finito io avevo già in mente di fare una serie compatta con una testa e dei piedi con un capo e una coda ho steso le trame di tutti e cinque mentre usciva il primo avevo già l'idea generale poi le trame specifiche le ho fatte fra l'uscita del primo e la fine della stesura del secondo e tuttora sono contenta di questa scelta perché io provo della frustrazione inenarrabile quando delle serie che hanno preso il via da degli spunti che mi sono piaciuti che mi hanno appassionata che io magari ho trovato anche qualche volta geniali si concludono con delle trovate povere che fanno pensare che l'unica ragione per troncarla in quel modo derivi dalla decisione di qualcuno di metterci o meno dei soldi di investirci nella pubblicazione se si tratta di libri o nella produzione se si tratta di serie televisive ci tenevo a dare un finale all'altezza dell'inizio ai miei personaggi devo dirvi che però quest'anno quando ho scritto l'ultimo l'anno scorso quando ho scritto l'ultimo capitolo mi sono un po' commossa anch'io perché alla fine i personaggi sono anche amici miei è dispiaciuto anche a me lasciarli così salutarli e sì è stata una serie di scene struggenti pantomime pazzesche mio marito che arrivava mi trovava in lacrime sto scrivendo sto scrivendo adesso sì e ceniamo trovavo delle ragioni stupidissime per prolungare la stesura interrompevo in momenti clou perché devo andare a fare il bucato cosa volete che me ne freghi era per procrastinare il momento in cui altre pagine si fossero avvicinate alla fine però insomma comunque sono ancora contenta di questa scelta secondo me ci volevo che tra l'altro io ho curiosato un pochino anche nel mondo social che non un bazzico tantissimo ma in questo caso ho detto andiamo a vedere c'è l'hashtag Vani Sarka pieno di non l'hai mai visto? c'è addirittura un profilo non so se esiste veramente senza foto però c'è l'hashtag Vani Sarka pieno di dichiarazioni d'amore per questo personaggio e di dichiarazioni proprio di lacrime di disperazione da parte di chi insomma ha detto siamo arrivati alla fine questi giorni sono idrologicamente difficili e tu non torni indietro ti sicuro neanche in un futuro ma ci sono dei racconti che sono avanzati perché ogni tanto ti chiedono magari il racconto così è capitato anche di scrivere dei racconti extra scusate mi sono distratta però il grosso la struttura portante della storia è arrivata hai deciso che e si parlava poi tra l'altro nel senso uno dei personaggi divertentissimi questo Harry Dark questo scrittore di quei thrilleracci americani di cui si parlava prima dice che lo scopo di un libro è alla fine anche vederlo al cinema questi sono personaggi che potrebbero anche starci al cinema o al televisione qualcuno ti ha mai avvicinata con queste intenzioni o tu te li potresti immaginare ti piacerebbe? cioè la mia gente che è convinta che prima o poi si farà una serie e lavora attivamente impegnata a trovare una produzione vediamo io una cosa vi assicuro se dovessero fare una produzione ma porto anche i caffè ma fatemi stare sul set perché ho avuto delle voci degli scorci di vita di produzione televisiva penso che sia la cosa più divertente cioè se il mondo editoriale è divertente penso che il mondo televisivo lo stracci voglio vedere deve essere un bacino di ispirazione una cornucopia di ispirazione che non si può lasciare scappare così se ce l'hai sotto il naso quindi spero che si faccia anche solo per avere la possibilità di annusare vabbè quindi chiudiamo con un finale aperto a questo punto perché non sappiamo cosa ne sarà perché noi vorremmo stare ancora tantissimo con Alice Basso ma è logorroica ci aspetta un magnifico aperitivo che vi garantiamo non ha preparato Vanisar no tranquilli assolutamente no sarà delizioso poi come si diceva tornate qui perché comunque la serata si concluderà anche grande qua sul grande schermo con un film questa sera c'è un gelido inverno di Deborah Granik quindi eccoci questo è quanto comunque Alice Basso non scappa per ora grazie grazie a voi un grazie grande così ad Alice Basso e a Deborah grazie a tutti grazie a tutti Grazie.